Buongiorno e bentrovati su una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Vediamo i titoli di oggi. AstraZeneca, AIFA, sospende in via precauzionale il vaccino. Tumore colorretto, Buscarini, Fismad, farmacista, figura imprescindibile per fare prevenzione. Vaccino Covid, al via somministrazioni a farmacisti presso hub di Fiumicino. Povertà farmaceutica, sempre più italiani non possono curarsi. Al centro del congresso SIF. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha esteso il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca contro il SARS-CoV-2 su tutto il territorio nazionale. Una decisione che arriva in via del tutto precauzionale e temporanea in attesa dei pronunciamenti dell'EMA e assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei, ultimi dei quali Francia e Germania. L'AIFA farà sapere a breve come completerà il ciclo vaccinale chi ha già avuto una prima dose del preparato dell'azienda anglo-svedese. Intanto si allarga la platea dei vaccinatori. Nel piano vaccinale del commissario straordinario Francesco Paolo Figliolo sono previsti fino a 250.000 operatori sanitari per accelerare la campagna coinvolgendo anche i farmacisti. Le vaccinazioni avverranno ovunque, annunciato figliolo, nelle farmacie, nei palazzetti dello sport. A marzo faremo il riscaldamento e da aprile cominceremo. Nella seconda decada avremo le 500.000 dosi al giorno. Il mio compito sarà di bilanciare la forza vaccinale di tutte le regioni. Il controllo è accentrato e l'esecuzione è decentrata. Andrò a controllare di persona. Questo è il momento della svolta. Se non lo facciamo, perdiamo tutto, dichiara il commissario straordinario. Nelle farmacie territoriali di Bergamo e provincia è partita la campagna di screening del tumore del colorretto che ha come obiettivo primario quello di potenziare la prevenzione di tale tumore e migliorare l'accesso al servizio per l'utenza tramite la rete delle farmacie. Per la prevenzione del tumore del colorretto la farmacia ha un ruolo fondamentale in tutto il processo di screening. A dichiararlo a filo diretto Elisabetta Buscarini, presidente della Federazione Italiana della Società Malattie Apparato Digerente. Quanto più proattivamente i farmacisti verranno inseriti in queste campagne di screening, aggiunge Buscarini, tanto più successo otterremo. Ecco perché abbiamo deciso di distribuire alle farmacie le locandine della campagna di sensibilizzazione FISMAD. L'intervista integrale è disponibile nell'edizione odierna di filo diretto. Continuano nella Regione Lazio le vaccinazioni dei farmacisti con il via alle somministrazioni presso l'Hub vaccinale Lunga Sosta di Fiumicino, inaugurato domenica. La Regione Lazio, in particolare l'assessore D'Amato, ha dichiarato Eugenio Leopardi, presidente di Fideffarma Lazio, hanno dimostrato con questa iniziativa grande attenzione verso una categoria che in questa pandemia ha mostrato una particolare attenzione al cittadino e riteniamo un'ampia disponibilità per le istituzioni. L'assessore alla sanità Lessio D'Amato la considera un'attenzione rivolta ad una categoria che è sempre stata in prima linea nella lotta alla pandemia. Le farmacie continua sono un presidio territoriale importante e un riferimento per i cittadini e presto, una volta immunizzati i farmacisti, potranno anche somministrare i vaccini a loro volta. La povertà economica che, secondo i dati Istat, nel 2019 ha investito quasi 1,7 milioni di famiglie in Italia rende più problematica quella sanitaria, che di fatto cresce parallelamente. E la fotografia scattata nel corso del Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacologia Per le persone indigenti, spesso, l'unica possibilità di ricevere gratuitamente assistenza medica primaria e terapie farmacologiche, precisa la SIF, è rappresentata dagli ambulatori degli enti caritativi del territorio. Analizzando la composizione della spesa per tipo di prestazione dal report Istat, emerge che nel 2019 gli indigenti hanno destinato la maggior parte del loro budget sanitario all'acquisto di farmaci. Diversamente dalle persone non povere, per le quali questa voce rappresentava una parte minoritaria della spesa destinata alla salute. E proprio per soddisfare questa esigenza, gli enti caritativi si avvalgono soprattutto delle donazioni da parte di organizzazioni non profit, come il Banco Farmaceutico, che quest'anno, nel corso della giornata di raccolta del farmaco di Banco Farmaceutico, patrocinata da Federfarma, ha raccolto più di 400.000 confezioni medicinali. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani, buona giornata.